I sindacati CGL, Cisle e Will di Teramo lanciano un nuovo allarme sulla condizione dell'Aspio 1, l'azienda dei servizi alla persona che gestisce le case di riposo di Teramo, Civitella del Tronto e Nereto, dove alloggiano complessivamente circa 500 anziani. Questo perché secondo i sindacati si fa sempre più concreto il rischio di chiusura, visto i 12 milioni di debito e i continui ritardi nei pagamenti degli oltre 200 lavoratori. Le cooperative e le aziende dell'Aspio 1 sono allo stremo e sono oramai mesi che pongono questioni di fattibita economica e legale. Questo nonostante circa otto mesi fa la regione aveva prospettato una strada che si traduceva con un finanziamento stanziato che sarebbe dovuto arrivare nei primi mesi, il 2022, accompagnato dal piano di risanamento dell'azienda, strategia questa ad oggi non ancora avviata. Cooperative e le aziende che sono allo stremo, con i lavoratori e le lavoratrici che ogni mese non hanno la certezza dello stipendio, chi è in ritardo di qualche stipendio, chi potrà essere in ritardo di qualche stipendio e ovviamente sappiamo benissimo che bollette, supermercati e tutte le spese che si deve affrontare ogni mese arrivano puntuali e quindi devono essere pagate. Quindi la situazione è arrivata oramai al limite e la cosa preoccupante è davvero l'immobilismo e il silenzio della regione Abruzzo che otto mesi fa ci aveva promesso che si avviava un percorso, di questo percorso non si sa più nulla. Ci stiamo avviando questa strada sapendo che però dall'oggi al domani, al di là del nostro grandissimo impegno, della lotta di lavoratrici e lavoratori, però ci sarà un punto in cui con 12 milioni di euro di debiti potrebbe essere un punto di non ritorno, quindi ci vogliamo fermare prima perché noi tutte le azioni le faremo, tutte le azioni possibili e immaginabili di lotta, di mobilitazione le faremo tutte fino ad incatenarci appunto in consiglio regionale o di qualunque tipologia di sciopero. Dopodiché però io credo che una casa di riposo su un bene così essenziale per la nostra comunità non si debba più scherzare, non si debba più giocare. Oggi ci devono dire che cosa vogliono fare, un programma serio, condiviso, con una tempistica e con delle certezze e se non ci sono queste certezze comunque ce lo devono dire. Ecco da questo punto di vista non basta solamente la serietà del percorso ma anche la serietà e l'onestà di dire quello della fotografia che si ha perché in questo momento brancoliamo nel buio e non ce lo possiamo più permettere.